bentornati su cper tv alla faccia di quelli che dicevano che quest'estate non era calda come le altre siamo arrivati al lunedì 3 agosto 2020 ed abbiamo scoperto che non è vero e quindi ecco il what di oggi si chiama bip test il classico bip test sono 5 round 2 volte shuttle run 10 metri 15 thruster direttamente dentro 5 round di 2 per shuttle run 10 metri e 15 overhead squad in effetti un po modificato rispetto al test originale ma è sicuramente molto divertente e con questo caldo anche una bella tortura pesi scalature come al solito sulla grafica qui di fianco per oggi è tutto noi ci vediamo domani per un altro uomo di insieme su cper tv